commenta il fatto del giorno enzo d'antona direttore del piccolo il rapimento di emanuele orlandi uno dei più grandi misteri italiani la scomparsa orlandi un classico un classico mistero italiano emanuele orlandi era figlia di un usciere del vaticano scomparvi all'improvviso venne vista l'ultima volta alla fermata di un autobus non si è mai saputo non si sa neppure se si è ancora viva sappiamo solo che la verità giudiziaria ci dice che l'inchiesta è stata chiusa l'anno scorso la cassazione ha accolto la richiesta della procura di roma e ha definitivamente fatto calare il sipare su questa storia che però sicuramente non finisce dal punto di vista giornalistico e che si è trascinata per tanti anni tra varie piste più o meno battute dai magistrati emanuele orlandi fu vittima di un intrigo perché partecipava ai festini pedofili come ci ha spiegato un certo punto padre amort festini pedofili del vaticano scomparve casualmente venne sequestrata perché qualcuno servizi segreti stranieri volevano la liberazione di ali agga l'attentatore di papa voitila oppure venne sequestrata dalla banda della magliana perché la banda della magliana e la mafia volevano indietro i soldi investiti nello ior ecco questo spettro di ipotesi che non ha mai trovato conferma che è stato frutto anche di vari depistaggi di telefonate fasulle di perfino pochi mesi fa è messo un audio shock da cui in cui c'è una ragazza che chiede aiuto e qualcuno ha detto che questo è un audio di emanuele orlandi però quello che è sicuro del caso di emanuele orlandi è che ha dato un colpo ha gettato un'ombra pesantissima sul papato di voitila e danneggiato molto l'immagine del vaticano e probabilmente ecco una cosa mi sento di dirla che escluderei che la morte di emanuele orlandi sia stata casuale sia stato un rapimento di un balordo e emanuele orlandi no perché troppi troppi infiltrati di servizi segreti in questa storia troppi depistaggi troppo fumo alzato direi con modalità quasi mafiose come per molti grandi scomparsi di mafia mi viene in mente il caso di mauro tanto per dirne uno